Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Ludacrid e BabesTV! Bene ragazzi, oggi porterò sul canale una reaction un po' diversa perché di solito reagiamo a video musicali, performance di tanti soliste mentre oggi voglio reagire a un sing-off, al That's My Jam che non so esattamente che cos'è perché sarà uno show americano che io ovviamente non conosco e ci sono Ariana Grande e Kelly Clarkson e io adoro entrambe Allora ragazzi, che dire, Ariana Grande c'è poco da dire per me è una delle cantanti più talentuose della nostra generazione una di quelle che diventerà, ci saranno quelle cantanti che si ricorderanno per sempre le conoscono tutti, nessuno se le dimenticherà mai cioè, per me è veramente una leggenda Kelly Clarkson è una cantante che adoro io ho ascoltato praticamente quasi tutta la musica che ha fatto finora la sua voce mi fa impazzire ragazzi quella è la cosa che proprio mi ha preso di più quando l'ho ascoltata la prima volta è una fantastica performer e vocalist anche lei quindi adoro entrambe e ho visto casualmente che hanno fatto questo sing-off al That's My Jam e mi ha detto, perché non farne una reaction? hanno visto che erano entrambe sono veramente emozionato perché voglio proprio vedere che qua io sono sicuro che qui ti verranno fare il meglio di loro poi insieme, capirai, che dire? niente da dire proprio quindi prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare le notifiche e di seguirci su Instagram e su TikTok e mi raccomando lasciate un like sia per Ariana che per Kelly andiamo ah scelgono proprio tipo una canzone mixtape medley ma cosa fanno? ah ma è Jimmy Fallon che so c'è il tito That's My Jam oddio, sei troppo forti comunque orzariana, che bella che è vabbè, divertitissime mamma mia no vabbè, sarà fantastico no ragazzi, vabbè, praticamente loro da quello che possa aver capito devono cantare un medley cioè gli verrà dato tipo un tema musicale e loro devono cantare un medley una dietro l'altra di quel tema musicale no vabbè, già, già muoio ecco, pop vivazzo il primo cioè, fantastico olè dai, vediamo no vabbè, no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè ragazzi comunque fermi un attimo non so se avete capito che loro stanno cantando completamente senza preparazione senza niente canzoni non loro oltretutto quindi c'è pazzesche di continuo poi cambiano di continuo io penso che morirei anche se magari le conosco perché finora le conosco tutte io morirei wow no vabbè l'hai vita pure mamma mia no vabbè ragazzi oddio no mi fanno ammazzare comunque sono veramente divertenti veramente troppo divertenti però mi piace perché sono divertenti allo stesso tempo sono proprio professioniste cioè cantano alla perfezione mentre ridono pure loro vogliono da ridere io veramente comunque si vede quando uno è un professionista riesce a fare qualsiasi cosa qualsiasi cosa no vabbè armonizzano pure mamma mia oddio i brividi mamma mia mamma mia comunque a me quando le cantanti ringhiano per me è tipo qualcosa di via il fuoco dentro mamma mia mamma mia no vabbè no vabbè ragazzi vabbè io non ho parole ragazzi sono sconvolto 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 cioè ha fatto ha fatto quell'i not alla fine ha mantenuto quella nota con un vibrato pazzesco no vabbè ragazzi sono tipo io penso che siano una perfezione loro veramente la perfezione ma come cosa gli puoi dire non gli puoi dire niente niente poi è Jimmy Fallon cioè che per me è uno dei talk show più belli che esistano ce l'adoro che è divertente da morire no vabbè ragazzi io mi inchino a cotanta perfezione veramente bene quindi questa è la mia reaction spero vi sia piaciuta mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare le notifiche di seguirci su instagram e su tiktok e mi raccomando lasciate un like per ariana e per kelly detto questo ciao ciao ciao